Buongiorno, oggi tra i problemi che riscontriamo nel Polesine vogliamo parlare ancora una volta dell'isola che si è formata ormai da anni sotto il ponte tra Corbola e Adria. Vogliamo capire se è un problema, se potrebbe creare problemi quando ci saranno le piene e per capire questo abbiamo deciso di chiamare ancora una volta l'ingegnere Wainer Avanzo di Taglio di Po che ci spiega secondo il suo punto di vista se quest'isola appunto sotto il ponte può creare problemi sia per gli argini e per la nostra incolumità. Buongiorno ingegnere, secondo lei che tipo di problemi potrebbero insorgere con questa isola che ormai è da anni così incombente sul nostro territorio? Ora il mio punto di vista è il seguente, ci sono due tipi di problemi, il primo che è il più importante cioè quello che ha una probabilità maggiore che si possa verificare è quello di un'eventuale esondazione in caso di piena del Po perché con la piena del Po la sezione del fiume è più o meno costante, è abbastanza costante e sapendo che la portata deve essere proprio per un principio idraulico, per un principio di continuità deve essere costante e sapendo anche che la portata è uguale la velocità dell'acqua per la sezione del fiume, riscontriamo subito che questo isolotto va ad occupare il volume che dovrebbe occupare l'acqua perché a quel punto lì per mantenere la portata costante l'acqua corre più forte, ha una velocità maggiore, questa velocità maggiore incide non solo la velocità ma anche la quota dell'acqua perché con la piena la quota dell'acqua è molto più alta, ne nasce una spinta sugli argini per cui secondo me l'isolotto vorrebbe veramente levato dal fiume